No, io non ho il biglietto per Istanbul. Vabbè, magari il Minant te lo regala, insomma. Di fronte a questo grande atto di fede. Sarebbe bello, speriamo. Speriamo di no. Io sono sempre sicuro perché il Champions quest'anno ha dimostrato di avere un passo in più. Per me stasera finisce come all'andata. 0-2. E poi? Si arriva ai rigori. Ai rigori passa il Milan. Ho fatto un tatuaggio che riguardava lo scudetto del Napoli due o tre settimane prima che lo vincessero. Però insomma, dai, quello era abbastanza sicuro. Ci ho creduto. Ci ho creduto fino in fondo. Saluto Kevin. Mi spiace per lui perché è una grandissima persona, simpaticissima. Forza Inter. Ci vediamo a Istanbul il 10 giugno. Ciao a tutti i ragazzi di The Peach. Come vedete, sono appena uscito da lavoro. Ho saputo la brutta notizia, la tristezza è tanta. Però io sono fiero del Milan, sono fiero della mia squadra e sempre forza diavolo. Ciao a tutti i ragazzi di The Peach.